Questo film è un po' un regalo per chi si lamenta del cinema italiano, per chi ama il teatro, la cultura, Edoardo, per chi ama il cinema, bello e ben fatto. Mi racconti un attimo com'è stata la genesi di questo progetto partendo soprattutto dalla collaborazione con Edoardo, di cui utilizzi l'arte della commedia e la traduzione che non conoscevo splendida e napoletano della tempesta. Sì, sono stato molto fortunato perché da ragazzo ho lavorato per Edoardo per cinque anni e all'interno di questa collaborazione ho avuto la fortuna di registrare proprio la tempesta tradotta da Edoardo in Napoletano dove Edoardo interpretava tutti i personaggi, per cui ho convissuto con questo testo per più di un anno perché registravo e montavo quello che Edoardo recitava. E quindi dopodiché ho avuto un altro secondo incontro con la tempesta quando Luca ha voluto metterla in scena con le marionette dei Colla per cui ha fatto una sorta di regia audio della voce di suo padre con dei piccoli tagli, degli accorgimenti. Quindi questo testo mi è rimasto dentro per tantissimi anni. Quando il carcere dell'asinare è stato chiuso e quindi l'isola è ritornata ad essere un'isola visitabile sono andato subito a vederla ma proprio come curiosità e ho trovato un'isola veramente sospesa nel tempo perché andando via il carcere si sono aperti i cancelli, gli animali giravano liberi, i cinghiali, gli asini sembrava veramente l'isola di Caliban, sospesa nel tempo. E quindi lì ho iniziato a lavorare a questa possibilità di interpretare e di sognare l'isola che aveva raccontato Shakespeare nella tempesta come un'isola possibile perché il tragitto da Tunisia a Napoli passa in qualche modo anche davanti alla Sardegna. Per cui fantasticando su questo sono arrivato a costruire un copione che rendesse giustizia un modo di fare teatro, un modo di essere a servizio del testo che è stata la grande intuizione di Edoardo rispetto appunto a questa traduzione. Cioè vedere Shakespeare come un contemporaneo da un lato ma soprattutto come una persona che presuppone come era in Edoardo capocomico, erano due capicomici che presupponevano il pubblico nelle loro scritture. Non era un qualcosa di culturale o di astratto ma era proprio molto sanguigno e molto popolare. Per cui il tentativo era quello di fare un film estremamente semplice e popolare che però contenesse dentro parte dei loro testi. Esatto. E parliamo proprio di Calibano, no? Tra l'altro sui titoli di coda, a parte questa bellissima canzone, mi sono quasi commossa, di Edoardo che canta appunto una canzone su Calibano e che è interpretato da un straordinario attore sardo. Calibano è il mostro, no? È il figlio della strega in Shakespeare e qui invece rappresenta forse anche qualcos'altro. Qui rappresenta la natura e qui forse è la mia origine sarda a cui ho un debito perché l'isola dell'Azinara ha avuto appunto quello che raccontavo prima per me e un altro anche significato e cioè è stata un'isola appunto carcere quindi vietata, un'isola carcere dove non si poteva andare. E le parole che usa Shakespeare per descrivere questo sono parole che si usano ancora ad oggi in Sardegna per definire un senso di colonizzazione della nostra terra, per cui mi sembrava questo paradossalmente molto attuale anche se io sono fedelissimo a Shakespeare e mi sembrava importante che quello che viene un po' considerato il selvaggio dell'isola, il padrone dell'isola in qualche modo capisca la sua condizione attraverso il teatro, cioè quindi attraverso l'incontro con la cultura lui si vede rispecchiato dagli attori che raccontano la sua storia che però è una storia appunto che ha millenni alle spalle per cui mi sembrava di buon augurio ecco verso la mia terra far interpretare un personaggio che sia un personaggio molto legato alla natura, sono le forze che fanno anche paura della natura c'è una scena che è tutta assolutamente finta, fatta di rumori, fatta di suoni dove lui riesce a imitare il suono degli uccelli sorprendendo praticamente gli attori in scena e quindi è un modo in cui il teatro ci rivela ecco qualcosa di noi Ecco un'ultima cosa, si può definire anche un film politico? Perché io pensavo che l'arte della commedia che pure entra prepotenzialmente nella storia, insintreccia, penso che sia forse l'opera più politica di Edoardo perché parla della cultura, del rapporto col potere quindi l'hai inteso anche in questo senso? Idealmente, allora il film ovviamente quando io l'ho finito era dedicato ad Edoardo e sono molto contento che Luca suo figlio abbia fatto in tempo a vederlo, adesso per me è idealmente dedicato a Luca e cioè a una persona che ha saputo essere umilmente, essendo un grandissimo attore, al servizio del repertorio di suo padre che era anche poi una radice di suo nonno, c'è proprio un senso artigianale di fare questo mestiere che è un qualcosa che con la necessità di liderismo eccetera che c'è oggi abbiamo un po' perso sul sì e il no di Facebook mi piace, non mi piace, ecco ci sono possibilità di profondità che vanno un po' oltre il mi piace, non mi piace, per cui politicamente vuole essere un omaggio a un modo di stare al mondo e di comprendere anche le diverse atmosfere da un lato e le diverse provenienze delle persone per trovare qualcosa che va salvato, va perdonato e in qualche modo va liberato per cui da questo punto di vista sicuramente è un film attuale, parla poi di un naufragio in qualche modo di qualcosa che arriva in un mondo apparentemente fermo e lo cambia Grazie mille, io penso che sarà la cultura che ci salverà se c'è speranza ancora Questo è un po' la volontà di questo film, pensare a riguardare il senso profondo delle cose dandosi anche il tempo di stupirsi anche dell'ingenuità in qualche modo perché il film è molto leggero paradossalmente però affonda su radici profonde Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!